Allora, proviamo a mettere in pratica i concetti, a vedere come si mettono in pratica i concetti che abbiamo discusso negli ultimi dieci minuti prima dell'intervallo. Allora, qui ho aperto Eclipse, nella sua bruttezza, e proviamo insieme a creare un primo progetto JavaFX che faccia una cosa molto semplice, tipicamente posso avere un bottone che se premuto ci stampa un messaggio, ci scrive un messaggio del tipo buongiorno, la tipica cosa, tipico hello world che abbiamo. Allora, noi come vi dicevo abbiamo predisposto una procedura facilitata per creare già un template di progetto che sia adatto a noi, usando il sistema che si chiama Maven di gestione automatica delle librerie che è valido per il mondo Java. Quindi per creare un nuovo progetto abbiamo questa serie di passaggi, proviamo a farli insieme. Io parto da Eclipse su vuoto facciamo file nuovo, progetto, quindi non aprite un Java project che vi creerebbe un progetto vuoto, ma andate su project puntini puntini che ci porta alla finestra di scelta della tipologia di progetto. All'interno c'è Maven, dentro Maven c'è Maven project, lo dico all'italiano Maven, così ci capiamo. Qui noi quando vogliamo creare un nuovo progetto lo creiamo come progetto Maven, cioè un progetto che viene inizializzato da un template, da uno scheletro che abbiamo pubblicato sul sistema Maven. Questo quando vi create i progetti da zero, quando invece faremo progetti di laboratorio eccetera eccetera, vi facciamo già scaricare un template più ricco da GitHub, ma questo come dicevo lo vediamo la settimana prossima, per ora lavoriamo in autonomia. Quindi vado avanti, qui mi fa una domanda stupida e quindi gli dico che va bene, mi chiede se voglio crearlo da qualche parte diverso rispetto al workspace che mi sono impostato, vabbè, avanti. Ecco qua, questo è il punto critico, qua c'è un elenco di cose che Maven chiama archetype, che vuol dire modelli, ok? Ci sono qualche diecimila elementi, in questa tabella e per trovare quello che ci interessa possiamo scrivere TDP Ok? Adesso ci stiamo ancora lavorando, quindi sono ancora un po' da perfezionare ma in realtà poi si aggiornerà. Noi ce n'è uno che come vedete si chiama TDP 2023 JavaFX archetype, ok? Quell'altro che c'è va bene lo stesso da quello che usavamo fino all'anno scorso, questo è nuovo da quest'anno, la prima volta che lo uso quindi spero che funzioni, che imposta il modello, adesso è una versione appunto 1.0.1, ci stiamo lavorando probabilmente lo semplificheremo un pochino ma la procedura è sempre la stessa. Quindi ci cliccate sopra, la prima volta che aprite questa finestra magari ci vuole anche un minuto o due perché Eclipse deve scaricare tutti gli elenco degli archetipi dal repository di Maven, quindi non preoccupatevi se la prima volta questa finestra vi è vuota perché lui si deve scaricare, poi una volta che l'ha scaricato in locale, le volte successive lo trovate subito, ok? Quindi io seleziono questo TDP 2023, vado avanti e mi chiede i dati del progetto. Allora, mi chiede tre cose con dei nomi strani, group ID in realtà è il package all'interno del quale vogliamo creare il progetto, il package Java, no? Normalmente, sapete che la convenzione per i package è quella di mettere il nome dell'azienda che crea il progetto, al contrario, quindi se fosse polito.it, scriviamo it.polito.tdp, così diciamo così, è un progetto, noi tutti i programmi che faremo li metteremo pubblicando, cioè scegliendo come package it.polito.tdp, il nome del programma. Il nome del programma, il nome del package, che corrisponde anche al nome del package che contiene il programma, in realtà lui lo chiama artifact ID, quindi lo dobbiamo mettere sotto, quindi dobbiamo compilare la seconda riga, che per noi sarà, ad esempio, primo, no? Primo programma che facciamo. Quindi mi crea un programma, un package che si chiama it.polito.itp.primo, dentro cui mette il mio programma. e poi vanno lì sotto package, dentro sotto primo, no? Vanno le classi, eccetera. Poi c'è una casellina che ci ha fatto, diciamo così, arrabbiare parecchio, che è questa casellina qua, Run Archetype Generation Interactively, che è spuntata solo nell'ultima versione di Eclipse, se prima non c'era. Questa dice, guarda, mentre io, adesso quando, se io clicco su finish, lui parte a creare il mio progetto, ok? Se questa casellina è selezionata, lui parte a creare il mio progetto e si blocca a metà. E voi state lì a guardare il 33% di progresso, e dice, beh, perché aspetta che tu batta invio, a un certo punto, dentro la finestra di console. L'abbiamo capito dopo tante parole gentili. Quindi, ricordatevi, se si blocca il 33%, che bisogna battere invio per farlo andare avanti, oppure, meglio ancora, se vi ricordate prima, io mi dimentico sempre, di togliere questa spunta alla casellina. Ok? Questo è il regalo che ci ha fatto Eclipse quest'anno, gli anni precedenti non era così. Io adesso lo faccio con la spunta selezionata, così vediamo dov'è che dobbiamo battere invio. Altrimenti l'orto di traspunta è un problema in meno. Ok, finish. Lui crea il progetto, comincia a trullare. Ecco, e qua sembra che sia morto. Dice, creating archetype in basso 33%, punto, il numero magico. In realtà c'è qua, questa Y, due punti, vorrei conoscere chi l'ha scritto, che sta aspettando una conferma. Vuoi davvero creare questa roba lì? Allora tu vai qua dentro, devi selezionare dentro console, e vai invio. E lui va avanti. Per capirlo ci ha voluto un po', perché non è che sia proprio intuitivo. Se no, vabbè, come dicevo, adesso è arrivato, building, fa altre cose, si scarica le librerie, eccetera, eccetera. E poi finisce. Vedete che la console, la rossa è diventata, il grigio, quindi vuol dire ha finito il suo task. E mi ha creato un progetto che si chiama Primo qua. Adesso, non sono capace a rendere questi caratteri di Eclipse più grandi. Quelli dell'editor sì, il codice lo scriviamo più grande, però qua purtroppo chi non è nella primissima fila, per fortuna ci sono le registrazioni. Comunque, ce la mette anche davanti al vostro computer. Allora, cosa c'è dentro questo progetto? C'è una serie di classi Java dentro un package che si chiama appunto it.polito.tdp.primo che è quello che abbiamo scelto in fase di creazione del progetto. C'è una classe che si chiama main, una classe che si chiama entry point. Questo qui è un è un giro strano che abbiamo dovuto fare l'anno scorso perché come è stato creato il progetto. Adesso forse cercheremo di semplificarlo. Questa è una delle cose che ci stiamo cercando di semplificare perché Java 17 funziona meglio del Java 11 che usavamo l'anno scorso. Quindi, ha dei problemi in meno e dobbiamoci aggiornare il progetto. Di fatto, questa classe main non fa nulla se non chiamare il main di entry point. E vabbè. Entry point è la classe che fa ciò che dicevamo prima. vedete che extend application il main chiama launch della classe madre eccetera eccetera. Questo esattamente praticamente è l'esempio che c'era sulle slide. E carica un file da questa classe fxml order va a caricare un file che è dentro la cartella fxml sin.fxml Questo file fxml si trova nella cartella in una diciamo così source main java ci sono i file java e source main resources ci sono i file di appoggio tra cui c'è una sottocartella fxml che contiene questo file scena.fxml Quindi i file su cui dobbiamo lavorare sono tutti i programmi i file java dentro questo packet primo e eventualmente sicuramente il file fxml che troviamo sotto resources Questo file viene caricato qui in questo punto dalla classe fxml loader che lo carica Contiene già qualcosa questo file Allora questo progetto in realtà è già pronto per partire nel senso che se io vado su main e faccio run run as java application run as java application sulla classe main ok oppure clicco il bottone verde che è la stessa cosa esegui main.java parte già un primo una prima applicazione che è questa qua di esempio adesso la ricostruiamo la cancelliamo da zero ma giusto per avere uno scheletro funzionante che è già una finestra che contiene un bottone non è che sia molto ricca contiene un bottone che si chiama click me adesso andiamo a vedere come modificarla come farla funzionare questo warning che c'è sotto non preoccupatevi più di tanto allora questo è già un programma che già sta funzionando adesso noi vogliamo poi in realtà se cliccate sopra lui già ti stampa qualcosa ma questo proviamo a ricostruirlo da zero quindi non guardiamo quello che sta facendo ok allora se volessi fare il mio programmino cosa dovrei fare beh come prima cosa vado a creare l'interfaccia grafica che voglio io quindi mi ha detto che voglio un bottone voglio un posto in cui stampare il messaggio che questo bottone dovrà cioè che comparirà dopo che io avrò premuto il bottone allora lo faccio andando prima di tutto a lavorare sulla scena allora per editare questo file di scena se io lo trascino di qua vediamo che questo file xml questo sin.fxml è un file appunto xml fatto di elementi annidati uno dentro l'altro è un file di testo che contiene roba però non andiamo mai non andremo mai a editarlo a mano se no magari per capire se qualcosa non funziona andremo a leggerlo ma però vedete che qua c'è scritto button qui c'è scritto hbox c'è scritto border pane cioè sono rappresentati in xml i stessi nodi java che devono essere creati e messi dentro la scena questo è il lavoro che farà la classe fxml loader che si legge sta roba qua e crea i nodi con le varie proprietà noi però lo vogliamo editare in modo grafico allora apriamo questo file scena.fxml lo apro con in questo caso dice il system editor cioè lo faccio aprire al sistema operativo a volte dovrebbe bastare doppio clic ma la prima volta magari è meglio dirglielo e se quando avete installato sim builder l'avete associato con i file fxml dovrebbe partire automaticamente il sim builder so che l'anno scorso c'era sempre dei problemi con chi aveva il mac perché gli partiva il sim builder ma non gli apriva il file per qualche motivo si perdeva per strada e quindi partiva con la finestra vuota ma non è grave basta a questo punto tanto questo qua questo sim builder è un file è un programma separato se vuoi puoi tranquillamente andarti a aprire il file che vuoi devi andare a sapere dov'è il tuo workspace o il progetto dove hai salvato il tuo progetto primo è il nome del progetto source main resources fxml e lo trovi qua quindi è importante ricordarvi dov'è il il workspace poi questo file andate tranquillamente ad aprire selezionandolo dalle cartelle adesso qua in questo sim builder stiamo editando il file fxml che sta dentro il progetto di eclipse ok buttiamo via tutto e così ce la rifacciamo da zero qui ho selezionato hbox cancella ok questo è il contenuto della mia scena vuoto contiene in realtà solamente un border pane che quello lo possiamo tenere quindi noi cosa possiamo aggiungere possiamo aggiungere appunto un titolo alla nostra finestra che non è il titolo che va a finire sopra la finestra ma è un titolone come abbiamo visto quello grosso sopra come possiamo aggiungere ad esempio possiamo aggiungere usando il nodo un nodo di tipo label allora qua sulla sinistra facemi ingrandire qua sulla sinistra abbiamo due cose tra in realtà tre pannelli diversi un pannello che si chiama library che contiene tutti i nodi possibili ad esempio nel gruppo container ci sono tutti i pannelli contenitori nel gruppo controls ci sono tutti i controlli quindi i bottoni le aree di test eccetera eccetera possiamo andare a cercarci l'elemento qui oppure qua c'è un motorino di ricerca se io scrivo label mi fa vedere già i nodi se so già come si chiama il nodo posso già cominciare a scrivere il suo nome qua e una volta che ho questo lo posso trascinare lo posso trascinare o in questo caso non c'è ancora nulla quindi qua non funzionerebbe o sulla scena già disegnata oppure sull'albero dei nodi per dire dove lo voglio mettere quindi il titolo per me è un'etichetta un nodo di tipo label label è semplicemente un'etichetta di testo un testo che non è interattivo lo metto nel top allora io adesso ho due viste sincronizzate quella di sinistra è l'albero dei nodi quella di destra è l'anteprima dell'interfaccia e poi c'è il pannello di destra a destra che mi evidenzia le proprietà del nodo che sto creando quindi in questo caso mi dice che è una proprietà di un nodo di tipo label scritto qua properties label e questo è l'elenco di tutte le proprietà che posso impostare su questo nodo alcune più chiare tipo il testo altre un pochino più esoteriche che possiamo ignorare in realtà queste proprietà sono divise in tre gruppi le proprietà principali le proprietà di layout che ne controllano l'impaginazione e le proprietà code che impostano come reagisce cioè come si collega al programma in java praticamente come collegare il nodo alle procedure che lo gestiscono nel card di etichetta ovviamente che vuoi fare l'unica cosa che conta è il testo che c'è scritto sopra quindi io al posto di questa label posso andare a editare la proprietà text e scrivo che è primo programma java fx quando batto invio mi cambia ovviamente l'anteprima del nodo in realtà in questo caso potrei anche fare doppio clic qua e scriversi dentro è la stessa cosa non è non sembra proprio un titolo perché magari per farlo titolo lo facciamo più ciccione quindi lo facciamo diventare da non so 24 punti quindi sto modificando la proprietà font del nodo label e vabbè e qui ho riempito quindi il top quindi il border pane dentro il top ci sta un nodo solo e in questo caso ho scelto di metterci una label se volessi metterci che ne so il titolo e anche a fianco un'icona non ci stanno perché dentro il top ci sta un nodo solo allora dovrei prendere un contenitore che ne so un hbox che vi affianco orizzontalmente quindi mettere l'hbox nel top e poi dentro l'hbox mettere la label e l'icona mi serve un contenitore intermedio se devo mettere più di un elemento in uno slot che ne contiene uno solo questa è una regola generale quindi e vabbè questo è il titolo nel contenuto centrale quindi della mia finestra cosa voglio mettere voglio mettere un bottone e un testo che comparirà quando l'utente premerà il bottone quindi mi servono due cose queste due cose non ci stanno entrambe dentro lo slot del centro e quindi devo mettere un contenitore dentro il quale queste due cose andranno a finire ad esempio se le voglio mettere una sotto l'altra in verticale potrò usare un contenitore se andiamo qua nei containers il disegnino di questi pardon il disegnino di questi container più o meno ci suggerisce come lavorano ad esempio hbox affianca orizzontalmente i vari nodi vbox affianca verticalmente i vari nodi grid pane mi crea una struttura a righe e colonne allineate invisibile la struttura ma gli elementi sono allineati poi cosa abbiamo accordion la fisarmonica l'accordion sono questi che quando ne apro uno si chiude l'altro ok quindi quando ho dei vari oppure dei tab però sono già più evolute di effetto quelle che ci servono c'è la flow pane che è anche interessante flow pane che è qua la flow pane è semplicemente mette gli elementi da sinistra verso destra come fosse un hbox però mentre l'hbox li mette tutti sulla stessa riga il flow pane quando arriva alla fine della finestra va a capo quindi se devo mettere delle cose che poi possono andare a capo le uso così ma poco alte essenzialmente il tile pane invece è simile al flow pane però va a capo mantenendo l'allineamento incolonnato il tile pane si usa per fare l'anteprima delle immagini quando avete i programmi di grafica per vedere tutte le miniature delle fotografie anche se sono di dimensioni diverse te le incolonna in modo comunque ordinato questo qua è il tile pane il tile le miniature le piastrelline vabbè in questo caso vogliamo fare una cosa molto semplice vogliamo solo due cose un bottone una scritta mettiamo un vbox mettiamo una sopra l'altra e quindi dentro il centro mettiamo vbox quindi ho preso la vbox dalla libreria dei contenitori scusate e l'ho messo dentro il centro del mio border pane vbox e mi è comparsa qui tra l'altro c'è una sincronizzazione perché se io seleziono un elemento qua lui me lo evidenzia già da questa parte se lo seleziono me lo evidenzia dall'altra e così via i tre pannelli cioè la la gerarchia l'anteprima e le proprietà sono sempre sincronizzate tra di loro adesso perché questo vbox ha questa dimensione e perché tra le proprietà del layout di questo vbox c'è la dimensione di larghezza preferita e altezza preferita 100x200 quindi quando l'ho trascinato mi è venuto fuori 100x200 ma questa è una proprietà predefinita che io posso cambiare quando voglio proviamo a mettere qualcosa dentro e poi sistemiamo questa dimensione voglio mettere un bottone abbiamo detto il bottone è nei controlli e lo metto dentro vbox quindi ho il centro che contiene un vbox che contiene un bottone e poi ho una potrebbe essere una scritta quindi magari prendo di nuovo una label che è sempre qua nei controlli e la metto dentro il vbox qua e lui me la metterà dopo il bottone quindi ho vbox che contiene due elementi bottone ed etichetta a questo punto posso modificare le proprietà di questi elementi il bottone anziché chiamarlo button lo chiamano premi qui che è il nome da non dare mai a un bottone perché devo sempre dire cosa succede quando premi qui è una sorpresa e l'etichetta magari inizialmente è vuota non mostra nulla all'inizio e poi quando apriamo il bottone mostra una frase all'effetto tipo buongiorno adesso magari come prima versione non lasciamolo vuoto mettiamo tre puntini per dire così vediamo cosa c'è e vediamo che cambia poi dopo lo renderemo invisibile allora questo è già un'anteprima della finestra addirittura dentro SimBuilder esiste un menu preview che mi apre una finestra demo diciamo così di come verrà fuori il programma quindi me lo mette dentro una finestra dentro uno stage e mi fa vedere cosa è già capace a fare diciamo così l'application di Java da sola sapete la classe madre application di cui vi ho parlato prima cosa sa fare sa gestire lo spostamento della finestra il dimensionamento il bottone da solo sa come emozionarsi quando ci vado sopra sa come scurirsi quando lo premo e così via quindi sa già fare una certa serie di cose che sono definite dal comportamento predefinito della classe application e delle classi dei vari controlli dei vari nodi questo l'anteprima me lo fa già ovviamente nell'anteprima non succede nulla quando premo il bottone il bottone si comporta da bottone ma da bottone ignorante che non sa cosa deve fare non c'è il programma vero e proprio però mi può servire per giocare con l'anteprima ad esempio una cosa brutta che vedo nell'anteprima è che non ci sono margini qui è tutto appiccicato al bordo allora sistemiamolo un attimo ad esempio il border pane che è il contenitore principale che sta dentro la scena diamogli un po' di aria ad esempio potrebbe essere qui c'è il padding prendiamoli 5 pixel sui 4 lati o anche 10 se vogliamo via ecco qua così vediamo che già un pochino non è proprio appiccicato così come possiamo in questo vbox possiamo dare una spaziatura tra gli elementi vedete che c'è una proprietà margine che dice quanto staccarlo rispetto gli elementi vicini è una proprietà spacing che specifica quanto i vari elementi tra di loro devono essere attaccati oppure no quindi c'è una serie di elementi in verticale e li voglio appiccicare oppure li voglio distanziare quando li incolono invece il margine è quanto margine c'è rispetto all'esterno ci sono tutte queste proprietà qua in cui uno può andare poi a fare fine tuning della grafica che tra l'altro sono totalmente indipendenti dal codice ce ne possiamo fare una cosa che ha i nodi giusti ma sono brutti non sono ben impaginati fa lo stesso cominciamo a scrivere i codici poi andiamo a sistemare la grafica o viceversa perché semplicemente sono solo proprietà preimpostate nel file fxml qui che ne so possiamo mettere un po' di spaziatura per separare il bottone possiamo avere un margine superiore della vbox quindi solamente margine top di 10 pixel di nuovo lo stacchiamo dal titolo e poi possiamo dire alla vbox non di essere larga 100 e alta 200 ma di adattarsi a ciò che contiene al suo contenuto quindi la vbox non ha una dimensione fissa ma avrà una dimensione che dipende dai nodi che gli mettiamo dentro e quindi si restringerà o si allargerà secondo che dentro mettiamo più o meno cose io non ho fatto subito questa operazione che sto per fare use computed size perché se lo facessi prima di metterci qualcuno da dentro lei collassa a 0x0 pixel perché non ha niente dentro e quindi per la dimensione minima che non contiene nulla quindi diventa invisibile è anche più difficile da gestire se faccio use computer size dell'altezza occupa l'altezza che serve qui possiamo giocare fino a stanotte su queste proprietà grafiche di allineamento la costante che dobbiamo tenere in mente è che noi non stiamo decidendo dove vanno a finire gli elementi stiamo dando ai vari nodi contenitori le istruzioni delle indicazioni su come loro poi posizioneranno gli elementi perché dipende poi anche appunto dalla dimensione della finestra se faccio un preview di questo adesso viene così se lo allargo ovviamente il Vbox non ha bisogno di crescere perché gli dico prendi la dimensione minima però come punto di partenza poi magari lo vogliamo al centro anziché a sinistra questo vabbè allora ci sarà una proprietà di allineamento da qualche parte penso qua nel Vbox l'allineamento qua top left anziché possiamo mettere a centro possiamo mettere a destra tutte cose che si possono modificare sono abbastanza numerose ma la maggior parte sono intuiti e sono comunque documentate nel senso che se io poi ci clicco sopra mi porta direttamente alla pagina di documentazione che spiega cosa fa quella proprietà ecco l'altra cosa che vale la pena di dire è che le proprietà che abbiamo qui sono esattamente le stesse proprietà degli oggetti nodo e quindi la posso modificare qui ovviamente se che modifico qua varrà l'avvio dell'applicazione quando viene letto il file fxml ricordiamoci che qui stiamo solo editando un file di testo ma poi le stesse cose possono essere modificate o lette o modificate in qualunque momento del mio programma semplicemente andando a leggere la proprietà di quel nodo con un set o con un get quindi qui c'è una proprietà che si chiama text nel mio programma potrò sempre fare get text e set text c'è una proprietà che si chiama text alignment potrò sempre fare set text alignment e get text alignment per tutte le proprietà ok allora direi che questo qua è l'fxml che ci basta lo possiamo salvare quindi salvo file salva ctrl s torno in eclipse e rilancio il mio main e quindi a questo punto dovrebbe partire il programma con l'interfaccia aggiornata eccolo qua qui c'è un altro warning che dice guarda che l'fxml è fatto con la versione 19 di java fx perché sim builder è in versione 19 ma tu hai il jdk in versione 17 chi sa perché il 18 fa lo stesso nel senso che comunque non facciamo cose solo che jdk 19 non è ancora stabile quindi vi abbiamo chiesto di usare il 17 ma sim builder 17 non c'è c'è l'11 o il 19 pazienza a volte può capitare che quando voi aprite il programma quindi modificate l'fxml e provate a lanciarlo rimane ancora quello vecchio perché cosa succede quando voi fate run eclipse va a prendere i file modificati e ricrea li ricompila essenzialmente ok quindi a volte visto che noi l'fxml lo modifichiamo da fuori di eclipse potrà essere che noi lo modifichiamo ed eclipse non se ne accorga e quindi quando compite il programma usa la versione vecchia perché non va a leggere quella nuova perché non si è accorto che l'ha letta se succedesse questo quindi modificate qualcosa io sono stupito che l'abbia così fatto perché di solito mi aspettavo dobbiamo modificare qualcosa far di nuovo salva facciamo di nuovo run ecco vedi che i tre puntini che ho aggiunto qua non me li mostra eppure ci sono ecco il trucco quando capita questo è prendere l'fxml e farglielo aprire le eclipse quindi lo trascini qua lui lo legge e dice ah è cambiato allora quando fa il run se ne accorge quindi poi di solito la interfaccia grafica la facciamo all'inizio però ricordiamo se la ritocchiamo e il trip non se ne accorge basta fargli aprire il xml e lui si accorge che è cambiato è un po' così e il trip lo amiamo per questo ok salva accorgitene e vai ok adesso è bellissimo perché questo è il mio programma quando premo qui non succede nulla ovviamente come fa a succedere qualcosa? beh adesso questo programma il mio programma si comporta esattamente come l'anteprima cioè i vari nodi sanno cosa devono fare ma nulla di più adesso devo aggiungere del comportamento ai nodi la prima cosa ho un bottone che è quello che scatenerà tutto allora devo dire a java effects quando premi questo bottone quando io premo questo bottone voglio che tu chiami un metodo di una classe di una classe che non abbiamo ancora visto ma in realtà c'è nel progetto che si chiama controller cioè questa classe controller adesso ha già della roba dentro perché era quella del programma vecchio adesso la butteremo via e ci scriviamo roba nostra questa classe controller contiene i metodi e i dati su cui il mio programma lavorerà questo è il vero programma dentro il controller c'è la logica del mio programma allora dovrò definire un metodo che viene chiamato quando l'utente prende il bottone ok come faccio a definirlo nella mia scena seleziono il bottone e vado a vedere le proprietà code del bottone stesso nelle proprietà code ci sono due proprietà fondamentali poi tante altre sotto la prima è identity il nome di quel bottone ricordiamoci che il bottone è un nodo cioè un oggetto java che non ho creato io quindi se io volessi leggere vi ho detto prima tu puoi fare set text di quel bottone cambiare il contenuto dal programma è bravo però dov'è l'oggetto su cui chiamare set text chi ce l'ha io ce l'ho detto scena ho l'oggetto stage ma l'oggetto bottone non ce l'ho perché la classe fxml loader ha caricato roba ha creato 100 nodi beh ho creato 5 e però poi in certo punto di lui i riferimenti ai nodi allora il parametro identity serve a questo io nell'fxml specifico il nome di una variabile java che farà riferimento al nodo quando questo verrà creato quindi se dal mio programma voglio poter accedere alla proprietà di un nodo devo dargli un nome visto che non lo creo io cercogeremo in tutto questo corso piccola parentesi che sarà molto frequente in tutte le librerie che usiamo la regola che le classi non le creiamo noi gli oggetti non le creiamo noi creare un oggetto con new come abbiamo sempre fatto vi richiede di dover sapere troppe cose devi sapere la classe devi sapere tutte le proprietà il costruttore eccetera eccetera a volte non lo sai a volte non sai neanche qual è il nome della classe che devi creare non vedremo più avanti con l'accesso al database quindi capirà molto spesso che noi non creiamo noi degli oggetti ma usiamo delle altre classi per creare gli oggetti per noi è un meccanismo che si chiama di classi factory classe che costruiscono factory che costruiscono nodi che costruiscono oggetti qui non me lo costruisco io nudo a mano usando new ma chiedo una fabbrica di costruirlo per me cercheremo adesso lo sono messo per inciso quindi lo riprenderemo con più calma quando si vedrà meglio nel corso vedremo anche appunto questi alcuni di questi pattern di programmazione che non sono nulla in più rispetto ai costrutti java che già conoscete ma è un modo di usarli un modo di usare questi costrutti abbastanza ripetitivo abbastanza convenzionale che ci permette di risolvere problemi comuni si chiamano programming patterns chiudo parentesi questo campo identity fxd dà il nome a una variabile java che potrò usare nel programma per accedere a questo nodo in lettura e in scrittura quindi poter leggere e modificare le sue proprietà normalmente ad un bottone non mi prega niente di andare a leggere cosa c'è scritto sul bottone andare a modificare la scritta sul bottone però magari a volte lo voglio rendere abilitato o non abilitato c'è un bottone grigio che non lo posso premere a volte si quindi tutte le volte perché la visibilità del bottone è un'altra delle sue proprietà che è che c'è ecco qua disable tu vedi che cambio il disable se metto set disable true lui si disabilita se metto set disable false lui si riabilita disable false vuol dire enable si riabilita purtroppo è negativo questa proprietà ogni volta bisogna pensare a un attimo quindi nell'interfaccia magari ho bisogno però del nodo del riferimento all'oggetto istanza corrispondente quel nodo ecco è facile allora abbiamo detto gli do un nome lo chiamiamo bottone premi io per abitudine metto due o tre lettere che mi ricordano che tipo di oggetto è poi il nome dell'oggetto ma chiamatelo come volete è un nome e anche a questo punto lo facciamo per l'etichetta di testo qua sotto perché io la devo poter modificare per scrivere qualcosa di dentro devo poter modificare il testo contenuto e allora posso chiamarla questa cosa è una label chiamiamola label txt messaggio la class application vive tranquillamente senza queste informazioni ma al mio programma servono proprio per andare a modificare le proprietà dell'oggetto una volta che il programma è partito poi non basta nel bottone vi ho detto ci sono due cose importanti la prima è l'identità cioè il nome c'è un riferimento una variabile gialla che mi permette di fare riferimento a quel nodo la seconda è l'action on action proprio la seconda casellina nel quale scriviamo il nome di un metodo il nome del metodo che vogliamo richiamare quando l'utente premerà quel bottone in realtà è un concetto più generale possiamo indicare anche il nome di un metodo che verrà richiamato quando l'utente ci va sopra col mouse o un mouse over da qualche parte oppure quando l'utente ci scrive qualcosa oppure quando l'utente fa swipe oppure quando l'utente ingrandisce tutte queste caselle che sono qua sotto che sono decine corrispondono a tutte le azioni che l'utente può fare nell'interfaccia utente che coinvolgono quegli elementi quel nodo io a ciascuna di queste azioni posso se voglio associare un metodo che verrà richiamato quando l'utente farà quell'azione in particolare per i bottoni c'è un'azione particolare che è il premerlo che è diverso da o mouse click che c'è sotto o mouse click perché premere un bottone significa premerlo lasciare andare senza spostarsi dal bottone stesso mentre invece un click lo posso fare in qualunque punto per esempio se io facessi click premo il bottone poi sposto e lascio andare non è un click o meglio è un click ma non è un'azione non ho premuto il bottone invece faccio così sì quindi lui già sa interpretare le convenzioni dell'interfaccia grafica quindi l'evento ho usato la parola evento che non dovevo tutte queste azioni che l'utente può fare si chiamano eventi cioè cose che possono succedere accadere sugli elementi quindi l'interfaccia grafica sta in ascolto di centinaia di eventi ogni secondo ma appunto basta che sposti il mouse un attimo lui scatena eventi un evento del tipo on mouse moved a ciascuno di questi eventi io posso se voglio associare un metodo che si chiama che chiameremo event handler cioè gestora di quell'evento se l'evento non viene gestito boh viene dimenticato non devo far nulla boh non faccio nulla alcuni eventi sono già gestiti dalla piattaforma appunto quando io vado sopra il bottone lui si evidenzia è un'application che intercetta il fatto che il mouse sia entrato nell'area del bottone e quindi gli cambia leggermente il colore lo fa già lui se io voglio associare i comportamenti aggiuntivi lo posso fare nella label non c'è nulla ci sono solamente tutti gli eventi predefiniti non c'è on action perché la label non è qualcosa che è stato predisposto per essere attivato sul bottone invece c'è l'on action e quindi diciamo handle handle cioè nel bottone metto il nome di un metodo handle ma perché mi fa perché mi è mi è rimasto incantato in tasto premo A e mi si apre quell'altro che buono handle premi il bottone si chiama premi io ho chiamato handle handle perché mi ricordo che è un handler cioè un metodo che gestisce una certa azione c'è il bottone che è stato premuto handle prem beh un miscugio italiano e inglese pazienza mi perdonate quindi ho arricchito non ho cambiato nulla nell'interfaccia ho arricchito però i nodi dalle informazioni che mi servono per poter lavorare con quei nodi in java cioè i riferimenti ai nodi id e gli eventender gli gestori degli eventi per gli eventi che intendo gestire che mi interessa gestire salvo questo signore faccio finta che clips lo slegga e quando faccio run adesso si si arrabbia si arrabbia perché dice error resolving handle premi cioè lui mi ha detto senti tu mi hai detto di chiamare sto metodo ma sto metodo però se no me lo scrivi allora devo scrivere un metodo che si chiama handle premi per aiutarmi e così come mi dirà questo quando me lo dice ma se avessi scritto questo metodo mi direbbe guarda che tu hai la variabile button premi ma devi dichiarare questa variabile io poi ci metto dentro il valore giusto ma tu dichiarami almeno la variabile allora per far questo c'è un'altra funzione ed è l'ultima dello sim builder che è sotto il menu view l'ultima voce show sample controller skeleton cioè mostrami un esempio di scheletro di controller questa è l'ultima cosa che facciamo nel senso che dopo che abbiamo popolato l'interfaccia e definito i nomi e gli elementi definito gli event handler ci facciamo vedere le informazioni da mettere dentro il controller vedete che qua c'è vedete no perché è scritto in piccolo ma definisce una variabile button premi di tipo button private definisce la classe controller definisce una classe una variabile text message di tipo label queste non inizializzate sono null ovviamente verranno inizializzate solamente dall'fxml loader e definisce l'assignature della funzione handle premi quindi questo qua è lo scheletro del controller che possiamo prendere da qua copiare dentro e clips incollare dentro e clips e poi metterci dentro le cose vere ci sono altre due opzioni per girare questo controller la seconda la suggerisco sicuramente si chiama full che fa la stessa cosa di prima ma in più aggiunge un metodo initialize che fa dei controlli infatti controlla se i nomi dichiarati nell'fxml ci sono effettivamente nel codice quindi un controllo in più che mi conviene fare soprattutto poi quando cambio le cose magari mi dimentico di aggiungere una variabile e qua questo codice in più me lo aggiunge se no c'è l'altra opzione o comments che aggiungere i commenti ma in realtà aggiungere i commenti è abbastanza inutili nel senso che mette qua l'id del bottone ma è ovviamente lo stesso nome della variabile quindi questo lo copiamo copy con questo bottone andiamo su eclipse che aveva già una classe controller che possiamo tranquillamente buttare via e rimpiazzarla con questo codice che abbiamo preso di là è uno scheletro ovviamente è vuoto non ha nulla dentro ma è lo scheletro fatto su misura per il nostro fxml perché contiene il button premi contiene il text messaggio e contiene il metodo handle premi per gestire il bottone quindi adesso se faccio partire il programma tornando sul main e risolvare il file ovviamente questa volta parte senza errori continua a non far nulla o meglio chiama il metodo handle premi ma questo metodo handle premi non fa nulla siamo sicuri che lo chiami questo metodo e mettiamoci una print e così ci convinciamo system print out print line premuto quindi così solo per verificare che effettivamente quando uno preme sulla console dovrebbe comparire premuto e visto che il gioco ci piace se premiamo altre volte stampa altre volte ogni volta che l'interfaccia intercetta quell'evento su quel bottone chiama quel metodo e il metodo farà ciò che vuole fare cosa vuole fare il metodo? beh ovviamente la risposta non va nella console va nella finestra devo scrivere qualcosa dentro la finestra però non esiste una print dentro la finestra esistono dei nodi modificando le cui proprietà cambia ciò che viene mostrato all'utente allora io posso decidere che qua dentro anziché fare questa print line modificare la proprietà della mia etichetta di testo text message text message cos'è? è una label la mia label eccola qua che proprietà ha? ha una proprietà che si chiama text quindi dovrò prendere la label punto set text per impostare qui c'è una set text e una get text che ricevono ovviamente un parametro tipo stringa quindi io posso tornare nel mio controller commentiamo questa riga qua e potrò scrivere che la mia txt message txt message è stata definita qua questa variabile qua è definita solo dichiarata quindi non ha un valore sarebbe normalmente un'ultima è nulla attenzione devi inizializzarla devi fare uguale new no 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 non fare new new lo fa già l'fxml controller e poi grazie a questa annotazione fxml l'fxml controller va a iniettare dentro la mia classe controller il valore che ha calcolato lui che ha ottenuto lui quindi lo fa lui infatti se notate noi stiamo scrivendo codici dentro una classe fxml controller ma non abbiamo mai creata questa classe non la creiamo noi la crea sempre il famoso fxml loader quindi crea i nodi poi crea il controller e poi mette dentro il controller fa un lavoro di fino di ricucitura dentro le mie variabili del mio controller ci mette dentro i nodi che ha creato grazie a questo annotazione fxml che gli permette di capire quali sono le variabili da modificare per fortuna di tutta sta roba noi non vediamo niente semplicemente sappiamo che queste variabili ci sono sono inizializzate e quindi è una variabile tipo label e quindi avrà la proprietà il metodo setText in cui posso scrivere buongiorno e quindi riprovo salvo questo rieseguo il programma premi qui e compare buongiorno se lo premo più volte in realtà sembra che non cambi nulla ma in realtà sta sempre riscrivendo la stessa frase buongiorno quindi vogliamo fare qualcosa di un pochino più educato mettere magari non solamente buongiorno ma anche il nome buongiorno Fulvio ma per far questo devo andare a modificare l'interfaccia aggiungendo anche un posto in cui l'utente possa scrivere il proprio nome e quindi quando poi premo un bottone cosa succede? succede che quando premo un bottone il mio metodo il mio gestore dell'evento va a leggere il nome che ha scritto l'utente e a comporre il messaggio di saluto di buongiorno usando quel nome lì se l'utente l'ha scritto se non l'ha scritto allora non potrà dirlo e dover gestire l'errore cominciamo a entrare nell'inferno dell'interazione con l'utente per cui devo prevedere non solo cosa l'utente fa di giusto ma anche cosa farà di sbagliato allora se vogliamo far questo nel quarto d'ora che ci rimane ripartiamo da qui e dobbiamo mettere da qualche parte una casera di testo in cui l'utente può inserire dei dati perché finora abbiamo visto label che permette di mostrare bottone che permette di cliccare ma ci vorrà un elemento che ci permetterà anche di inserire dei dati questo elemento è un controllo e tipicamente è la text field text field un campo di testo oppure text area che è un area di testo text field è di una riga o una text area invece di più righe in questo caso ci serve solamente un text field che potrei mettere ad esempio come primo elemento della vbox sopra il bottone tipo così essendo un nodo text field sa già come si comporta un text field che deve avere un cursore che si evidenzia quando ci scrivo dentro che mi permette di scrivere e cancellare fa già tutto lui ha una sua larghezza boh eccetera che se non mi piace quella di default la posso andare a modificare addirittura ha un prompt text cos'è il prompt text? è il testo che compare prima che tu cominci a scrivere quello che compare in grigino in grigetto chiaro che ti dice il tuo nome compare il tuo nome qua andiamo in preview perché non compare dovrebbe invece qua sotto è comparso solo quando ci sono fuori allora qui il tuo nome quindi mi dice cosa ci devo scrivere scrivo il mio nome poi premi qui qui sono in anteprima quindi non fa nulla allora questa casella ovviamente la sto aggiungendo nulla di male gli devo anche dare un nome per poter per poterla poi leggere dal codice java quindi seleziono la text field e vado in code dove metto anche qua un id che potrebbe essere il txt del nome txt la testa di testo l'azione associata al tasto invio perché molte volte compilate le cose scrivete in un campo o cliccate sul bottone a fianco o semplicemente battete invio e lui lo prende no? però possiamo anche mettere che lo stesso gestore dell'evento gestisca più eventi diversi e se ci serve non è un problema lui chiama un metodo se quel metodo è anche chiamato da qualcun altro funziona lo stesso però per ora facciamolo tranquillo uno scrive nel testo e poi deve mettere dove c'è il bottone quindi l'invio non farà nulla nel nostro programmino di oggi allora salvo attenzione io ho aggiunto un id a questo ma il controller non lo sa ancora la variabile txt nome non c'è nel controller perché nessuno ce l'ha messa qua dentro allora devo andare a farmi rigenerare lo scheletro e copiarmi questo non faccio più copia ancora di tutto se no mi vado a sovrascrivere l'eventender che avevo fatto prima quindi devo essere un pochino più chirurgico e poi si arrabbia perché testfield non lo conosce perché ovviamente c'era anche un import sopra da copiare e quindi devo copiarlo o copio o ricopio tutto ma se c'è scritto roba dentro devo fare attenzione oppure ricopio i pezzi che ho aggiunto per quello che è consigliabile per quanto possibile definire prima l'interfaccia gratis che poi dopo passare ma non ci moriamo fate solo attenzione a una cosa all'autocompletamento qua perché dici vabbè perché devo mettere import eclipse non è scemo quando ci vado sopra a una classi non definita mi dà automaticamente l'import perfetto fate solo attenzione a importare le cose giuste perché di classi che si chiamano textfield ce ne sono almeno due una dentro la libreria java.avt che è una libreria grafica che non usiamo e l'altra dentro javafx.sym.control che è la libreria grafica che usiamo e sono due ovviamente classi diverse che non c'entrano niente quindi se per caso sbagliate a cliccare sull'import perché voi avete un po' qui nella frenesia del click clicca sulla prima cosa che compare ecco a volte non è la prima ma è la seconda quindi datevi quei 200 millisecondi per guardare cosa state per cliccare ma non mi funziona niente perché guarda vado a vedere gli import c'è di tutto e poi è colpa di eclipse dicono che importa la cosa sbagliata ok fatto questo txt nome è una abbiamo detto un nodo di tipo text field le cui proprietà sono le prompt text che non dobbiamo modificare e il text vero e proprio che è il testo contenuto nella casella che possiamo leggere con get text o scrivere con set text come una qualunque proprietà di un qualunque oggetto in questo caso vogliamo leggere ciò che l'utente ha scritto quindi nel mio gestore dell'evento che ricordiamoci è associato all'evento del bottone non associato alla casella di testo perché magari io ho un form con 3-4 campi diversi quindi solo quando prendo il bottone devo andare a leggere il contenuto e potrò leggere il messaggio prendendo il mio txt messaggio che è il nodo attenzione non confondiamo il nodo col suo contenuto txt messaggio è il nod che ha queste 12.000 proprietà la proprietà che mi serve è il text e quindi potrò dire buongiorno dall'itali l'utente interagisce col nodo di tipo text field e ogni volta che l'utente interagisce col nodo di text field è proprietà del nodo quindi il text è una giornata in tempo reale quindi non devo far nulla io quando leggo get text sto ottenendo il contenuto stringa di quell'area di testo in quell'istante di tempo lì ovviamente e se facessi un set text vado a modificare ciò che lui ha scritto volendo adesso proviamo a far questo faccio run se scrivo premi qui ovviamente mi schierà buongiorno nessuno perché sono rimasti i tre puntini grazie mille vedi che cosa serve avere gente davanti che ti corregge i bacchi txt messaggio era l'etichetta precedente con i puntini quindi in realtà quello che sto facendo sto concatenando a quello che c'era è la cosa nuova giustamente txt in nome grazie che è il contenuto di ciò che ha scritto l'utente quindi se io scrivo fulvio lui mi scriverà buongiorno fulvio se non scrivo nulla lui mi scriverà buongiorno virgola virgola senza niente quindi qua probabilmente è gestito se lui ha scritto qualcosa non ha scritto nulla quindi potrei dire se e qui poi if messaggio punto length uguale 0 allora txt messaggio punto set text potrò scrivere buongiorno anonimo altrimenti posso scrivere buongiorno tizio sì poi ci vuole le parentesi qua appena finito un corso in python dove non lo mettevamo e e quindi già faccio cose diverse poi ciò che posso fare è dire se ho scritto il nome magari poi ripulisco la cartella di testo volendo in modo che rimanga vuota pronta per scrivere un nome nuovo allora potrò mettere txt nome punto set text stringa vuota quindi se tu hai inserito il nome e io ti ho detto buongiorno poi il nome rimarrebbe nella cartella di testo perché nessuno dice nulla allora io lo cancello nella cartella di testo e così scompare non è buona norma ma è solo per vedere di giocare un po' con questi nodi quindi in questo caso se io scrivo premi qui mi dice buongiorno anonimo se scrivo invece il mio nome mi dice il mio nome e sopra cancella in modo che è pronto per salutare la prossima persona che è passata lì allora questo è il meccanismo di base con cui si lavora le interfacce grafiche tutte le librerie grafiche hanno questo meccanismo qua azioni dell'utente che si performano in eventi eventi che vengono catturati in buona parte dimenticati in minima parte gestiti da un gestore il programma gestore di eventi che è un metodo in caso del java effects un metodo dentro la classe controller in altre librerie funziona in modo leggermente diverso ma il concetto è lo stesso il modo che ha il programma in caso del java effects per interagire con l'interfaccia utente modificando ciò che l'interfaccia mostra noi abbiamo fatto solo le modifiche semplici modificare un testo ma volendo uno potrebbe aggiungere degli elementi rendere visibili invisibili insomma creare dei nodi in più puoi fare quello che vuoi il modo che ha il programma per modificare l'interfaccia utente quindi ciò che l'utente vede e per sapere ciò che l'utente scrive è quello di andare a leggere e scrivere le proprietà dei nodi tutto qua l'utilità del programma ovviamente sta nell'avere predisposto gli elementi interfaccia giusti e poi consigliamo questi benedetti gestori che qua dentro questo metodo avvengono le cose se io alla fine ti chiedessi ma quante volte quante persone sono passate lì e hai salutato allora devi definirti un quantatore lo devi incrementare devi verificarlo incrementarlo solo se il nome non è vuoto e se poi ti chiedessi quante volte quante persone diverse sono venute allora devi andare a farti una lista con i vari nomi per sapere se la stessa persona è ritorna una seconda volta oppure no ma quello è tutto codice che scriviamo qua dentro diventa tutto codice di gestione di strutture dati che sappiamo già fare semplicemente anziché essere richiamato e eseguito all'inavvio del programma viene eseguito quando l'utente premerà un bottone allora domani in laboratorio giocheremo giocherete con una cosa semplice di questo genere in cui vi chiederemo di fare un programmino anche qua che prende dei dati e manipola con queste 3-4 istruzioni che abbiamo visto vi ringrazio così avete 5 minuti prima adesso oggi mi avete detto che non avete lezione ma normalmente cerco di finire 5 minuti prima in modo da farvi arrivare dall'altra parte del Politecnico sani e salvi